La politica. La politica è quella cosa che tutti quanti, quando possiamo, la prendiamo per il culo, diciamoci la verità, ma che poi però è fondamentale per la nostra vita. Nessuno di noi farebbe il politico, ma siamo tutti pronti sempre a dire cosa dovrebbe fare il politico di turno. Questa è quella grande stranezza che fa di noi, alla fine, politici tutti i giorni, e che, volente o non volente, la politica nella nostra vita ci deve per forza entrare. C'è chi invece la politica la fa entrare dalla porta principale e nella propria vita decide di fare quella carriera per un periodo, per un momento, o magari per sempre, chissà. Beh, ma perché lo si fa? Lo chiediamo all'ospite di questa sera. Ed eccola qui di fianco a me, l'assessora Gaia Romani. Buonasera Gaia. Buonasera Fabio, grazie dell'invito. Allora, con te già, subito, quando ti si presenta, non si sa bene se iniziare dall'inizio o dalla fine della storia, però, a questo punto. Perché già, dovendo ti chiamare assessora, si aprirebbe un capitolo immenso della tua storia, giusto? Sì, è vero. Ma ce lo teniamo per dopo. Allora, facciamo come fanno quelli bravi, iniziamo dall'inizio, proprio partiamo dal principio. Gaia Romani, milanese. Sì. Classe 1996. Infatti, stiamo per dire 1998, invece no, 1996. Laureata? In legge. In legge. Assessora più giovane della storia del Comune di Milano. Sì. Pesante qualcosa, eh? Sì, abbastanza, devo dire. Una bella responsabilità per la mia generazione, anche e in generale per la politica, dimostrare che è possibile e che ha un valore aggiunto. Avere della diversità, anche nelle persone che ci rappresentano, e l'età può essere un elemento di diversità. L'età quando è diventato un elemento di diversità, secondo te? L'è sempre stato nella storia dell'uomo, oppure? Non so che è una domanda filosofica, però... Per me penso che lo sia diventato più nei tempi recenti, devo dire. Quando c'è stata più consapevolezza sul fatto che le persone, in generale, più sensibilità sulla diversità, sull'inclusione. E forse anche più di recente con, pensiamo ai movimenti del cambiamento climatico, quello che i giovani, Greta Thunberg in primo, sono stati in grado di creare. Essere giovani può avere una forza, perché anche tutta la forza con cui le persone oggi tendono a criticare chiunque e qualunque cosa, di solito viene più sospesa, nel giudizio soprattutto, quando c'è una persona giovane a portare avanti delle istanze. Anche magari penso che per essere l'assessora più giovane della storia del Comune di Milano, bisogna iniziare a fare politica davvero da giovanissimi a quel punto. Perché, insomma, un minimo di gavettola si farà, un minimo per capire come funziona, conoscenza, capire... Quando hai iniziato tu? Io ho iniziato a fare politica durante gli anni del liceo, perché sentivo la necessità di occuparmi non soltanto dei temi della scuola e quindi, come si suol dire oggi, del mio orticello, di quello che vivevo tutti i giorni, ma volevo capire le dinamiche che governavano una società che io percepivo ingiusta e capire se anche io potessi fare la mia parte per renderla più equa. E quindi ho iniziato a creare un'associazione con delle persone che erano giovani come me e come me sentivano questa esigenza. Il primo atto politico di gare romani è stato questo, fare un'associazione. Il primo atto politico di gare romani è stato all'elementari, quando non volevano farmi giocare a calcio perché ero una donna e non un uomo. Ah, e lì mamma e papà cosa hanno detto? Mamma era orgogliosa di me. Ah, ok, perfetto, perfetto. Poi appunto arriva questa associazione, di cosa si trattava? Qual era l'intento? Cosa avete fatto? Insomma, se esiste ancora, non so. Si chiamava Milano Attiva e aveva l'obiettivo di parlare con adolescenti di varie scuole, quindi di parlare di temi, diciamo, politici al di fuori dei nostri contesti, quindi al di fuori delle assemblee scolastiche e abbiamo iniziato ad affrontare alcuni temi come ai tempi c'era la riforma della buona scuola e quindi ad occuparci, se vuoi, sempre delle tematiche che vivevamo nel quotidiano con la voglia di poter dire la nostra. Era il periodo in cui al governo c'era Renzi come presidente del Consiglio e aveva chiesto a studenti, docenti, società civile di fargli pervenire alcune osservazioni, critiche e quindi noi abbiamo iniziato così. Ci occupavamo dei temi, direi, dell'agenda politica di tutti i giorni, organizzavamo iniziative per raccogliere fondi, per organizzare altri dibattiti sempre tutto ovviamente con un'attenzione particolare a quello che succedeva a Milano. Me lo diranno i cittadini milanesi, forse Renzi qualcosa di buono l'ha fatto, ti avvicina l'altra politica, dai. Sì, e poi devo dire che un'altra cosa buona che Renzi ha fatto è che è stato l'unico segretario dei più recenti a fare formazione politica per i giovani. Io avevo partecipato, quando lui era segretario, aveva fatto classe DEM, 360 ragazzi e ragazze da tutta Italia e quindi lui aveva molta attenzione al coinvolgimento dei giovani. Vedi che non è sempre tutto così brutto quello che viene raccontato, c'è qualcosa di buono anche in Matteo Renzi. Saluto, saluto da Matteo Renzi. Hai parlato di segretario, ma allora faccio subito la domanda. Questo segretario com'è? Allora, questa segretaria diciamo che arriva in un momento sicuramente difficile, in cui anche adesso la stanno criticando in ogni... Tu durante le primarie da che parte stavi? Io ho sostenuto Schlein. Hai sostenuto Schlein, ok. Come anche altri, visto i municipi di Milano, la tua amica Giulia Pelucchi, anche lei. Assolutamente, anche Paolo Romano, che adesso è consigliere regionale. Ma allora, io come dire, sono molto felice intanto che dopo nove segretari uomini abbiamo una segretaria donna. Sono felice di avere una segretaria che non ha paura di prendere posizioni anche scomode, dopodiché il Partito Democratico non è un partito che si cambia in un giorno, quindi non condivido questa sorpresa nel fatto che dopo soli due mesi e mezzo lei possa aver stravolto tutto quanto. Il lavoro da fare è lungo. Il lavoro da fare è lungo e dipende da tutti noi. Hai detto una cosa proprio interessante. La prima cosa che mi fa contenta è vedere dopo nove segretari uomini una segretaria donna. Ma fa così tanto la differenza? Allora, intanto io penso che faccia la differenza soprattutto se è una donna che ha una cultura femminista, e quindi una donna che conosce profondamente le dinamiche di potere squilibrate tra uomini e donne e fa di questo un cavallo di battaglia. E poi secondo me, come dire, non secondo me, ma secondo ricerche e studi, ormai è ultra provato che portare appunto quelle lenti diverse all'interno di luoghi di potere può aiutare a trovare soluzioni nuove a problemi vecchi. E quindi io penso che sì, la faccia. Hai detto una parola che una volta è una parola, anzi quasi bella da dire in giro, adesso la dici e ti insulto una volta, femminismo. Sì. Che cos'è il femminismo oggi? Il femminismo... O cos'è il femminismo in generale? Non so se è cambiato nel tempo. No, non penso che è cambiato. Intanto dovremmo parlare forse più di femminismi, perché in realtà ce ne sono di molto diversi. Oggi il femminismo è una, direi, cultura filosofica, politica che cerca di contrastare le disuguaglianze all'interno della società. Se poi, come me, cerchi di formarti all'interno di un femminismo che è sempre stato definito intersezionale, e quindi, per esempio, io parlo di transfeminismo e già questo te la dice lunga, perché c'è tutto il tema poi dell'identità di genere, dei corpi. Tu dici le istanze che, se cerco di riassumere, perché magari ci segui non è così dentro nei temi, tu dici transfeminismo vuol dire che chi fa una transizione per diventare donna in realtà fa quella stessa battaglia che fanno qualsiasi donna poi, cioè nel senso è comunque una battaglia di femminismo anche quella. Assolutamente. Non fa distinzione tra persone a cui viene assegnato il sesso biologico donna alla nascita e chi invece poi lo diventa. Non so quale comico diceva, anzi, forse sarebbe da riconoscere ancora di più perché uno che nasce maschio e decide invece di diventare donna forse va ancora più supportato perché rinuncia a dei privilegi e forse c'è qualcosa che... Sì, e in generale in realtà direi proprio che è un percorso per decostruire tutti quegli stereotipi in cui siamo stati ingabbiati e cercare di appunto indossare delle lenti di genere. Il problema è che qui si vive di stereotipi ogni giorno, anche sul femminismo, anche sull'ad esempio, una parola che ho usato io adesso che so che potrebbe portare magari altri maschetti ad avere convulsioni, che ho detto il privilegio di essere maschi. Sì. Si riesce a spiegarmelo tu perché io non riesco a spiegarlo, nel senso che... Sì, senz'altro. Quando lo spiego mi dicono, ma non è un privilegio, se sei nato maschio, punto, fine. È proprio quello il punto. Il privilegio è tutte quelle caratteristiche che non ti sono, come dire, non sono state guadagnate ma che tu hai per semplice casualità. Quindi per esempio essere bianchi nella società di oggi è un privilegio essere uomini sicuramente è un privilegio perché ti colloca in quella parte del mondo che detiene più potere. Non è una colpa il privilegio, quindi non dobbiamo sentirci in colpa perché siamo uomini o perché siamo bianchi, assolutamente. Però dobbiamo esserne consapevoli per cercare di fare la nostra parte per non perpetrare delle dinamiche di disuguaglianza. Io ho detto che poi non ci siano uomini bianchi che magari hanno difficoltà, che magari non arrivano a fine mese. Perché poi spesso sono così privilegiato che però sono disoccupato. Perché poi sono queste. Perché poi appunto dicevi la filosofia. E poi bisogna scendere sul marciapiede a parlare con la gente. Quindi a volte è un po' complicato far capire che appunto come il privilegio non è una colpa. Questa mi piace. La segneremo sul muro della relazione. Torniamo per te invece. Con quell'associazione poi com'è andata a finire? Ma è andata a finire che sì, noi in realtà poi, diciamo, i fondatori si sono tutti candidati nelle istituzioni. E quindi ci siamo nel 2016 candidati nei consigli di municipio. E l'associazione è stata, diciamo, gestita poi da generazioni successive. E ha continuato in realtà per diverso tempo. Adesso non direi che non esiste più, ma si è trasformata in altri progetti, in altre realtà. Diciamo che i frutti sono ancora presenti nelle generazioni più piccole. Ottimo. Ti ricordi la prima volta che hai messo il piede nell'istituzione invece? Così al Consiglio Municipio, credo, no? Sì, me lo ricordo perfettamente. È stato come la prima volta che ho messo il piede nella sala giunta o nel Consiglio Comunale. Ne parlavo proprio ieri di questo con un mio amico. La sala, diciamo, i luoghi delle istituzioni hanno, ovviamente, per chi sente lo spirito, diciamo, di servizio, hanno un ruolo incredibile, esercitano un fascino sicuramente molto forte. Senti subito il senso di responsabilità. Io me lo ricordo perfettamente. Ero proprio emozionata. Intanto perché comunque non è facile arrivarci. E quindi vieni da mesi stancanti di campagna elettorale in cui hai cercato di formulare delle proposte serie, hai parlato con tante persone, ti sei messo in gioco, ci hai messo la faccia, come si suol dire. E quindi arrivi anche un po' affaticato e stanco da questo periodo. E forse quello è il primo vero momento in cui realizzi che hai raggiunto il tuo obiettivo e in realtà da lì poi comincia l'impegno vero. Quanti mandati hai fatto in Consiglio Municipale? Uno. Un mandato? Solo come consigliere e anche assessore? Ero presidente della Commissione Politiche e Sociali. Sì, sì, sì. L'esperienza positiva, credo, no? Bella. Non posso che dire. Intanto formativa, Municipio 8. Formativa perché mi sono proprio lì dovevo gestire politiche per l'accessibilità, quindi ho iniziato a conoscere il mondo della disabilità, i centri diurni disabili, ma anche i centri anziani. Quindi ho iniziato a capire e a toccare con mano quali servizi la città di Milano offre, ma anche quali fossero, diciamo, le criticità. Quindi abbiamo cercato di fare il possibile per risolverne alcune. Quindi pesante, perché comunque stare nella pubblica amministrazione, poi lo sappiamo, ti scontri con dei limiti, dei vincoli, che in realtà sono a tutela di tutti noi. Quindi le lungaggini, gli interminabili passaggi che devi fare prima di poter collocare una spesa. Però anche tu hai fatto una roba che ci dà speranza. Se tu dici lungaggini, stavo per fare la domanda, ma non c'è possibilità prima o poi di accorciarle queste lungaggini? In realtà ce l'avete fatta. Avete fatto una proposta sulle piccole iniziative diffuse che ha fatto vedere che se si vuole, si può fare. Sì, si può sempre semplificare. Quando ti odiano in comune per questo? No, in realtà sono molto contenti perché col fatto che adesso le gestiscono i municipi. In un certo senso ha tolto quel lavoro. I municipi ti amano invece, immagino, è una follia? Ma i municipi, devo dire, hanno sempre quel sano rapporto di conflitto con l'amministrazione centrale. Fate bene un po', continuate così che va bene. Esatto. Io solo sai che sono della patria municipi sempre. Non ci amano mai, è un rapporto di amore e conflitto costante. Però sì, sicuramente questa è una cosa di cui sono contenti. Dopo l'esperienza municipale passi al comune. Passo al comune. Nel frattempo mi sono laureata. Ho iniziato a lavorare in uno studio di consulenza del lavoro perché mi sono laureata in diritto sindacale e ti dirò, ero anche un po' in dubbio perché comunque la vita della consigliera comunale non è proprio una passeggiata come molti pensano, che politici guadagnano tanto, che sono pieni di privilegi e di tutele. Ecco, spoiler, non è così. Soprattutto nelle amministrazioni locali. E quindi immaginati una persona che ha 24-25 anni. Era il 2021? Era il 2021. Era il 2021. Quindi post pandemia. E il consiglio comunale ti siedi dieci minuti? Non mi siedo. Non mi siedo perché nella settimana, subito dopo le elezioni, il sindaco avrebbe dovuto comporre la sua giunta. Non ci conoscevamo, ci eravamo visti perché lui aveva voluto conoscerci per vedere il programma di Generazione Milano, che era un programma tutto incentrato sui temi della nostra generazione. Però diciamo che non ci conoscevamo bene. Però aveva visto che avevamo fatto un risultato in termini di preferenze innegabile, perché io sono stata la terza donna più votata a livello comunale. E quindi il consenso non è tutto, ovviamente. Quindi se una persona che lancia messaggi che il sindaco non condivide, non è costretto ovviamente a darle. Almeno a vedere chi è. Però esatto, ha detto, vediamo chi è. Esatto, quindi abbiamo un po' approfondito. Non c'è nessuno, qualche sponsor che vi ha un attimo spinto? Sì, la segretaria del mio partito. Perché la segretaria del mio partito, Silvia Roggiani, aveva un rapporto con il sindaco già dalla precedente amministrazione e quindi ha un po' raccontato al sindaco chi fossi, che cosa facessi, il fatto che avessi già avuto un'esperienza amministrativa, tra l'altro aveva avuto anche delle esperienze di partito, di ruoli di partito, e quindi gli ha, come dire, garantito che fossi una persona che poteva fare bene. Un assessorato che non esisteva, no, esisteva. E come si denominava quei servizi civici? In parte. Allora, era sempre accorpato ad altri. Quindi, per esempio, la mia predecessora aveva la delega al digitale e ai servizi civici. Quindi è sempre stato un assessorato, diciamo, non di prima punta, se possiamo dire così, però il sindaco in questo mandato ha deciso di fare una scelta diversa. Cioè, ispirandoci un po' al concept dei 15 minuti, io lo chiamerei l'assessorato della prossimità, perché di fatto io mi occupo dei servizi di primo accesso al comune di Milano, che sono le anagrafi fondamentalmente, ma anche la cittadinanza, i matrimoni, quindi tutto ciò che ha volto a che fare con la vita delle persone. Poi dei municipi, che sono il primo contatto con le persone, e delle politiche della partecipazione, che di fatto hanno come obiettivo quello di accorciare le distanze tra il tessuto sociale e le istituzioni. Ecco, su questa cosa magari la prossima volta che ti dico al sindaco mettiamoci partecipazione anche nel nome del tuo assessorato, perché secondo me è importante. Per prima, sì. Ci manca un po' l'assessorato alla partecipazione che c'era prima, che poi... Adesso io ho la delega, sì. Visto che lo vedi, diglielo così sai. Lo sa chi sono, magari viene a citofonare anche da me. No, magari io magari hai idea di chi sono. Beh, penso proprio che lui sappia chi sei, con il lavoro che fate qua. Io faccio sempre il pianiste perché non viene qua a trovarmi per quello, allora lo faccio per quello. Dicevamo che la tua mamma è stata felicissima quando in quarto elementare hai condotto la tua battaglia per giocare a pallone insieme agli altri. E con la sindaco assessora, com'è stata la reazione? Beh, è stata molto bella, soprattutto perché loro hanno vissuto tutta la fatica di quegli anni, nel senso che sai, adesso sembra tutta una bella storia raccontarla. In famiglia c'erano altri politici? No. Mia mamma ha fatto scienze politiche, però poi ha fatto tutt'altro. E mio padre ha fatto economia, quindi devo dirti di no. Erano persone informate, ma direi... C'è l'attivismo o quello del genere? No. Ok. Quante volte ti hanno detto chi te lo fa fare? Mio padre un'infinità di volte. Ha smesso o continua? No, no, adesso è un fan. Passa in ufficio a salutarmi, mi chiede consigli, si informa. No, no, adesso hanno smesso. Però, sai, una ragazza di 16-17 anni che va in quelle cose strane che sono i circoli di partito, un po' spaventose, un po' che non si capisce cosa siano, tante sere a settimana che con qualsiasi tempo, caldo, neve, sta a fare ore di volantinaggio sotto la pioggia. È una cosa difficile per un genitore che non l'ha mai fatto da capire la militanza. Quindi, ripeto, adesso sembra tutto bello e scritto, no? Era scritto che in realtà non era scontato per niente che poi io, come dire, avessi la possibilità di ricoprire questo ruolo e tante persone non hanno avuto la mia fortuna nonostante fossero assolutamente persone valide. Quanto conta la fortuna? Io penso un buon 50%. Sì, in tutti i lavori. Cioè, se nel momento giusto, al posto giusto, quello cambia molto. Secondo me cambia molto. Poi, ovviamente, se sei un cane, rimani di dove sei. Però diciamo che prendendo un gruppo di persone di talento, il stesso talento, secondo me la fortuna è tanto. Ma la fortuna anche, sai, nelle condizioni di partenza, perché comunque già essere nata a Milano, già aver avuto la possibilità di fare l'università. Perché se io non avessi avuto, cioè se io avessi dovuto lavorare dieci ore al giorno per mantenermi, non avrei avuto la flessibilità che invece ti dà lo studio, che sicuramente è impegnativo e tutto. Questo mi fa capire, però, perché molti giovani non riescono a di vicinarsi alla politica, forse anche volendo, a un certo punto mi viene a dire, in che ho avuto esperienze, diciamo, in passato, vicine ai partiti e i giovani erano sempre difficilmente coinvolgibili, perché, insomma, la sera tardi, oppure la mattina presto, oppure il mercato del sabato mattina, a fare un mattinaggio, non è poi quella cosa semplice da fare se hai lavorato la settimana o se hai gli esami da dare. Sì, non è così attrattiva, diciamo. E non è anche così attrattiva, effettivamente. Sì, anche qua rientra un po' la dinamica di squilibrio e di potere, no? Cioè, noi siamo un paese in cui, diciamo, gli anziani, a cui noi vogliamo tanto bene, però la fanno un po' da padrona, quindi poi è normale che anche le scelte negli orari, eccetera, eccetera, siano definiti un po' dalla maggioranza del gruppo. Però sì, diciamo che il nostro sistema democratico potremmo dire che non è ancora così democratico, anche perché fare delle campagne elettorali costa, banalmente. Infatti, una cosa che noi abbiamo fatto e di cui io sono molto contenta è che, sai, che tutti noi che facciamo parte del Partito Democratico diamo il 10% del nostro stipendio ai partiti, perché visto che adesso poi non c'è più il finanziamento pubblico, però noi... Sono un po' abusato in passato, quindi... Esatto, e quindi c'è stata poi questo, come dire, piccolo... che però adesso è un disastro, perché appunto non puoi fare formazione perché fare formazione servono soldi, quindi tutta una serie di cose. Però noi abbiamo deciso di destinare il 5%, quindi alla fine un 15% totale, con l'idea proprio di destinare parte del nostro stipendio alla giovanile, con l'idea che tra 5 anni gli altri giovani che si candideranno nelle istituzioni potranno permetterselo e avranno un tesoretto a prescindere dalle condizioni di partenza. E' stato un bel gruppo quello di Generazione Milano. Siamo un bel gruppo, direi. Ecco, come va appunto? Questo ve lo sapete. Siete ancora tutti uniti? Vi sentite? Sì, sì. Dove siete dislocati ormai? Vabbè, tu sei quella che forse ha fatto... Eh no! Eh non lo so, infatti, perché c'è... Paolina? Quasi omonimo. Quasi, esatto, quasi omonimo. No, allora... Paolo Romano. Paolo Romano. Allora, partiamo... Perché lui è super giovane, quanti anni ha? 26, come va. Giovanissimo anche lui. Sì, partiamo dai ragazzi nei municipi. Avevamo un po' paura perché appunto il primo impatto con la pubblica amministrazione può essere pesante. Invece stanno facendo tutti un ottimo lavoro. Ci sono tanti giovani nelle istituzioni milanesi e stanno mettendo a terra dei loro progetti. Settimana scorsa, per esempio, c'è stato questo progetto alla seconda edizione Art is Young portato avanti dai consiglieri giovani del municipio 6 che hanno organizzato una mostra negli spazi pubblici diciamo del comune dedicata a tutti artisti under 18 che volessero esporre le loro opere e quindi stanno tutti facendo un grandissimo lavoro. Noi ci vediamo ogni tanto per confrontarci e aggiornarci quindi il progetto continua. Siete da corrente? Ma no, io direi che siamo un progetto che ha cercato di fare io la definisco un po' di testuggine nel senso che se sei giovane in generale se sei da solo le cose sono più difficili però se sei giovane se sei da solo sono ancora più difficili allora noi ci siamo messi insieme in rete però poi ormai ognuno di noi lavora con i propri presidenti di municipio io col sindaco quindi no però cerchiamo Paolo Romano con Attilio Fontana Paolo Romano con Attilio Fontana Pensa le fortune sempre agli altri esatto e poi Paolo Romano consigliere regionale penso non fosse appunto mai successo nella storia della Lombardia che un giovane di 26 anni prendesse più di 9000 preferenze ma questo è tutto il lavoro secondo me fatto sui territori perché poi una cosa a cui io ci tengo cioè a volte noi abbiamo la sensazione che ci sia una politica che cerca di fare le cose solo per consenso ma a me sembra che più tu fai le cose cercando di vendere qualcosa alle persone più se non c'è ciccia i cittadini se ne accorgono sempre e noi abbiamo fatto del metodo un contenuto secondo me sì cioè ti dico la nostra storia dice un po' questo no? quindi sì vi ho fatto bene forse avete trovato anche le persone giuste a cui rivolgervi con i temi giusti temi spesso e mentiri complicati però perché inclusività femminismo transfeminismo come l'hai definito prima omotransfobia temi che forse il mio tema naturalmente Gaia nel 2003 neanche ne parleremmo ovviamente ma siamo in un paese in cui ancora bisogna parlarne ancora bisogna discuterne tanto spesso mentiri però c'è anche un problema di comunicazione tra questa generazione così giovane che vuole tutto subito e la generazione prima che non mollo niente manco a morire è vero ce la faremo a trovare una sintesi prima o poi o dovrebbe forza arrivare allo scontro mi fai la domanda no milione di euro io penso che su alcune cose necessariamente serva al conflitto cioè la storia dei diritti ha sempre dimostrato che se non fai un po' di battaglia politica le cose non si smuovono ma proprio perché c'è quest'idea sbagliata che dare un diritto in più è togliere qualcosa a chi oggi fa parte di quel mondo privilegiato che rispetta una certa serie di canoni non è così e quindi per ottenerli abbiamo avuto da sempre per il divorzio per l'aborto ci sono state le piazze ci sono state le battaglie politiche ci sono stati movimenti collettivi io penso che questo un po' serva e sia necessario poi però penso anche che ci sia una parte di persone forse diciamo la maggioranza silenziosa che effettivamente fatica ad orientarsi oggi in una comunicazione che magari è social che è digitale che dà troppe cose per scontato e quindi alla battaglia va associata la pazienza di spiegare cioè non deve esserci supponenza una sorta di informazione barra educazione che posso dirlo apertamente abbiamo abdicato come ruolo dei giornalisti però devo rispondere sì voglio sapere come c'è anche tu allora anche qua io da un lato lo capisco nel senso che i giornalisti come ogni altra persona devono vivere del loro lavoro e quindi penso che ci sia una corresponsabilità cioè una cittadinanza che ha sempre più voglia della notizia veloce che clicca sul titolo ad effetto e quindi i giornalisti ovviamente per vivere devono fare dei contenuti che poi effettivamente vengono letti dall'altro sicuramente se tutte le testate cercassero di non prendere le scorciatoie e quindi come scorciatoie intendo andare incontro a questa esigenza di pancia faremo un lavoro migliore il maggior quotidiano milanese questa mattina apriva l'home page del proprio sito con sei articoli dedicati al delitto di Senago non solo forse un po' troppi sì io penso che ci sia oggi una morbosità che non andrebbe alimentata in questo modo il punto i giornalisti dovrebbero dare i fatti e poi io ero rimasta che sui fatti di cronaca i commenti le supposizioni non si facciano e quindi ripeto però anche qui io vedo una duplice colpa cioè se oggi sull'home page ci sono certi quelli che parlano di questo è perché noi cittadini diciamo ai giornalisti che vogliamo quella cosa lì quindi ripeto è una corresponsabilità giustamente prima dicevi molta gente rimane anche tagliata fuori dalla comunicazione attuale perché è appunto a volte supponente da certi punti di vista sui social si fa fatica a capirla ti chiedo questo allora ultima generazione io credo che tu sei ad accordissimo con le battaglie che porta avanti assolutamente ma col metodo allora col metodo io penso che oggi posso dire cioè ognuno nelle lotte fa la propria parte loro hanno un ruolo a cui noi non dovremmo come dire dare tutto questo peso io penso io penso che se dei giovani che hanno paura per il loro futuro e per le generazioni future facciano delle azioni per attirare la nostra attenzione e portare indignazione non sia da condannare questa cosa ma soprattutto non sia da condannare con così tanto paternalismo è successo però a Milano perché non viene via la mia amice dal cavallo sicuramente hanno sbagliato perché non penso proprio e lo hanno anche detto che il loro intento fosse fare un danno permanente e anche questo secondo me poi è sbagliato utilizzare questo aspetto come scusa per dire ah vedete allora quello che fanno è sbagliato sono ragazzi che fanno protesta civile il problema non sta e sul civile che alcuni hanno un po' da ridire ma è disobbedienza civile io ti dico è disobbedienza io penso che come dire si sposti sempre un po' il focus e l'attenzione cioè io farei così no io personalmente non ho mai fatto non ho mai usato questi metodi però vedere che per esempio un sindaco come Nardella va dal ragazzo che sta facendo questa azione lo spintona si rivolge a lui dicendo che cazzo fai mi sembra che veramente forse anche le istituzioni stiano dando una dimensione eccessiva quello che però io non penso è che queste azioni servano cioè loro le fanno dicendo noi con la nostra noi vogliamo generare indignazione per poi dirti perché questa stessa indignazione non la rivolgi alla crisi climatica ecco io la proprietà transitiva non c'è non mi sembra proprio che ci sia penso che le persone continuino a rimanere indignate da queste azioni e che poi quando loro fanno questa provocazione non cambino idea quindi forse le strade dovrebbero essere altre tu spesso sei sceso in piazza hai protestato è la cosa più violenta che hai fatto politicamente ce l'ho vai allora qualche anno fa davanti alla Mangiagalli erano stati esposti dei cartelloni pro-life e mi ha chiamata Alessandra Custerman responsabile primaria del reparto di ginecologia e mi disse Gaia io domani mattina ho 20 donne che vengono qua per aborti terapeutici terapeutici quindi non per scelta ma per necessità e si troveranno questi cartelloni pieni di frasi retoriche sul senso di colpa che una donna dovrebbe avere sul fatto che commetta un omicidio e questa cosa era successa perché quelli erano installazioni private quindi non erano passate dal baglio dell'amministrazione pubblica allora io e altre X matte ci siamo in prescrizione ci siamo armate di lenzuoli abbiamo scritto sopra la 194 non si tocca abbiamo preso delle scale e abbiamo ricoperto con questi lenzuoli per evitare che le donne sono artistiche che hanno fatto la loro carriera ricoprendo con lenzuola a monumenti sì no io non ho avuto la stessa fortuna a proposito di fortuna no ecco non ho avuto la stessa fortuna poi ecco anche lì comunque ecco stiamo quasi per chiudere com'è che arriva mi sembra di capire che è una sorta di chiamata quella che arriva a un certo punto stiamo quasi a parlare con una che poi diventa suona non c'è altro senso c'è una chiamata siamo votati al nostro lavoro anche lì c'è stata la chiamata vera e propria della corsa ma le siete partite quando è che arriva questa chiamata come si sente questo impegno verso ciò che in teoria sì è anche tuo non è solo tuo e diventa un pochino più tuo perché dici ok lo vado a rivendicare lo vado a difendere lo vado a è un qualcosa che ti brucia dentro da sempre proprio io da piccola ero sempre quella che si schierava contro i bulli in difesa dei più deboli ho sempre avuto un forte senso di giustizia dentro di me quindi non ti saprei dire che cosa però ti so ti so dire che è un qualcosa che deve essere alimentato cioè io mi ricordo che mi ricordo della mia maestra dell'elementare mi ricordo di alcuni messaggi che per me sono stati importanti per alimentare questo desiderio che ha questo onore onere sulla sua spagna non lo so se lo sa sai salutiamola ciao Simona si chiama Simona Quadrelli e quindi è una cosa che è abbastanza innata proprio una persona che riceve una chiamata come hai detto tu non penso che sappia spiegarti che cosa succede dentro però io ti posso dire che comincio tutti i giorni alle sette finisco tutti i giorni a mezzanotte e io il giorno dopo mi sveglio e sono carica a pallettoni magari sono stanca sono stressata però voglio fare questa cosa è la passione ecco perché ti chiedo questo non passa poi a me no però bisogna essere incapaci di riconoscere quando passerà questo secondo me è un errore che molti politici di essere capaci di riconoscerlo capaci di riconoscerlo perché metti caso nel mio caso se io a trent'anni quando finirà questo mandato dovrò avere il coraggio di riconoscerlo se sarà così che magari non ho più quella spinta creativa che non ho più l'ispirazione nel mettere a terra delle politiche che non sento più questa voglia non sarà facile dire ok adesso a trent'anni ho sempre fatto questo vado nel mondo del privato ovviamente sarà una sfida enorme se è questo che succederà e quindi la tentazione potrebbe essere quella di dire sai che c'è continuo vivo di rendita vivo del fatto che ho avuto ruoli importanti vado avanti e purtroppo è quello che succede c'è di buono che sei in Italia quindi giovane ci sei fino ai 45 48 anni ormai quindi qua c'è di buono che vai avanti che i giovani di Confindustria credo che sono fino a 45 anni ormai quindi una cosa del genere l'altro giorno mi hanno mandato una locandina sugli eventi sui giovani a Milano e c'erano tutte persone sui 40 anni scusa hai qualcosa contro quelli che sono 40 anni no però però penso che questo sia il portologo dice che siamo giovani sì però per gli altri paesi è normale avere presidenti del consiglio di 36 anni e noi ci sconvolgiamo ogni volta siamo in chiusura però non posso lasciate andare via con la cosa che metto all'inizio l'assessore a Romani allora è successo di tutto per colpa di quell'assessore hai messo un A e hai venuto giù il mondo sì sono ancora in causa ecco voglio sapere se si può sapere come sta andando perché spieghiamo velocemente allora quando sono stata nominata davanti al mio ufficio c'era una targa con scritto assessore quindi io come cambi l'indirizzo mail come sistemi e ti fai lo staff quindi per me era ordinare amministrazione fatto cambiare assessora ho pubblicato una foto perché comunque non ti nego che per me è anche un orgoglio avere 25 anni essere una donna e poter in qualche modo essere un esempio eccessivo però dire alle persone guardate che se avete una passione ci credete si può fare ovviamente facciamo tutti i giorni stories di cose inutili che facciamo noi noi normali cittadini quindi immagino cioè chiunque di noi l'avrebbe fatto grazie Fabio e quindi ho fatto una foto dicendo assessora bello fine è successo di tutto è successo di tutto ho avuto centinaia di migliaia parliamo di 400 mila commenti 400 mila 400 mila commenti 4 mila ricondivisioni in gruppi di stupro che spero che le persone ma è quello che io non capisco cioè tu hai avuto 400 mila commenti commenti di odio non di gente che dice non è lavorare punto chi se ne frega assessora assessora basta che lavori esatto oppure oh madonna mia adesso ho creato questa qui che non sa niente perfetto ecco più giovane no andiamola a prendere all'asilo dai fino a lì ci potevamo arrivare ci poteva stare no tutto sul fatto che eri una donna che avevo chissà cosa avevi fatto per arrivare lì aperto le gambe per arrivare lì testuale cito testualmente eccetera eccetera c'è agli atti è agli atti e quindi e poi più che altro insulti ecco allora oggi sui social non si deve si può criticare ma l'insulto è superfluo allora io mi sono rivolta allo studio legale Wild Side che è uno studio legale di Katie La Torre che da anni si occupa di questo e abbiamo fatto causa per diffamazione online ai profili che siamo riusciti a rintracciare diciamo allora ti dico che la maggior parte quindi quattro le abbiamo chiuse in mediazione quindi io ho avuto un risarcimento del danno per gli insulti subiti e quindi diciamo che sono andate bene altri non hanno risposto perché quando vai sulle cause civili tenti sempre la mediazione prima altri non hanno risposto siamo andati in tribunale e per adesso tutte le cause che ho fatto le ho vinte ecco ma scusami ogni profilo una causa? no perché purtroppo non riesci a no però nel senso spero non è che ho potuto fare una causa io l'avrei fatto non ho potuto fare una causa per tutti i profili però no no ogni profilo quindi tu hai quanti procedimenti hai in questo momento aperti più o meno ne ho fatti dieci in tutto vuol dire dieci volte andare in tribunale dieci volte parlare con gli avvocati firmare carte trovarti tu hai il tempo la possibilità e anche forse la passione per farlo nel senso passare i miei termini di passione diventa a quel punto anche politica quello assolutamente ma si succede a mia zia a mia cugina tua zia tua cugina probabilmente non sanno neanche che lo possono fare è questo il problema poi questi studi legali sono favolosi perché non ti chiedono spese legali ti chiedono le spese legali sulla base proporzionate alla base del risarcimento che tu ricevi quindi non vai in perdita non so come dire e molte persone non lo sanno io l'ho detto anche per esempio a Monica Romano che è la prima consigliera transgender che ha ricevuto improperi assurdi ma anche Marco Mazzei per la città 30 tutte persone che hanno ricevuto dei commenti minacce messaggi di odio incredibili ecco io una cosa sono sicura che ne avrò beccati solo dieci però quei dieci sono certi al cento per cento che non insulteranno mai più nessuno online e quindi forse questo è faticosa è lenta però è la strada giusta gli educati dai un po' diciamo secondo me no mi odiano ancora di più ma mi vado a stare in silenzio però almeno non fanno del male si tengono le loro opinioni e magari le esprimeranno in maniera meno distruttiva questo è l'auspicio va bene allora poi ci farei sapere come andrà assolutamente in bocca al lupo grazie a te Fabio grazie a Milano News per quello comunque appunto tanti giovani come te fanno per la nostra città grazie a voi grazie anche a voi che ci avete seguito mia carissima milanesi torna a brevissimo con una prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti